E andiamo, la partita che serviva, è andato tutto liscio, è filato tutto liscio, meno male, è filato tutto liscio, e andiamo, e andiamo, e andiamo, tre punti importanti, vittoria importante, vittoria importante ancora nel segno di Marcus Turan, Marcus Tikus Crack Turan, che sta continuando il percorso da vera punta di sfondamento, da vero bomber, sta continuando il percorso e si sta trasformando in un vero bomber, all'unica quasi palla toccata dal suo ingresso in campo, di ginocchio, la butta dentro, e andiamo a vincere a Berna in un campo vergognoso, totalmente sintetico, con la palla che andava a 200 all'ora, con l'infortunio di Carlos Augusto per un campo immondo, una vergogna che l'UEFA consenta certi campi in questi livelli, e ci buttavano pure l'acqua sopra, l'unico modo per fermare l'Inter, no, neanche così ci fermate, non ci fermate neanche così, vittoria importante, vittoria importante, e ripeto, non voglio continuare a dire le stesse cose, però anche oggi non si può non sottolineare un arbitraggio incompetente, il signor Oliver, il signor Oliver non ci ha capito un cazzo della partita, passatemi il termine, andava espulso Monteiro per una manata in faccia a Dumfries, vergognoso neanche, neanche la chiamata dal VAR, non è soltanto la sala VAR che da Lissone non funziona, non è accettabile un comportamento dell'arbitro del genere, non è accettabile, perché Monteiro che tira la manata clamorosa a Dumfries va espulso, manca un giallo a Benito, capitano dello Young Boys, trattenuta su Arnauto vicino al primo tempo, non vista, e sulla manata di Monteiro viene ammonito Dumfries, viene ammonito addirittura Dumfries, sul rigore, Haidam, già ammonito, andava buttato fuori, trattenuta clamorosa lì, come si fa a non sanzionare con un altro giallo, è una vergogna, quindi anche oggi mi verrebbe da dire vinto contro tutto e contro tutti, una partita fisica come quella di Roma, che hai vinto, che hai vinto con tanti patemi, perché è veramente una partita vinta in sofferenza, con una telecamera che neanche mette a fuoco, tra l'altro, insomma, però l'importante era portarla a casa, è filato tutto liscio, a parte l'infortunio di Carlos Augusto, peccato, turnover giustissimo, è portato a termine, vittoria portata a casa in vista dei Gobbi domenica, il turnover serviva ed è stato fatto, minuti nelle gambe per tutti, e si va adesso dritti con la testa domenica per vincere contro i Gobbi, che ieri hanno preso le pallonate dallo Stoccardo in maniera vergognosa, come sta con Seisao? No, vorrei chiedere un attimo un messaggino a Torino, mandiamo un messaggio come sta con Seisao, se ancora per terra, ancora a simulare, visto che poi era la Lega contro la Juve per il Rosso, con Seisao per la simulazione contro il Cagliari, una vergogna, un simulatore nato, stanno reincarnando Quadrado, stanno reincarnando, ha mandato via Chiesa o lo vogliono reincarnare in con Seisao? Dai, ma non scherziamo, dai, ma non scherziamo, su, dai, come sta con Seisao? Una domanda, volevo fare una domanda, mamma mia, hanno preso gli schiaffi, dovevano perdere 6 a 0 ieri i Gobbi, comunque, questo sarà un argomento che tratteremo già domani, che faremo le paggiale nei prossimi giorni, allora, partita veramente, una sofferenza unica, una sofferenza unica, primo tempo, i primi minuti, le due squadre si studiano, il problema è il seguente, abbiamo subito tanto perché, secondo me, sono venute meno le linee del centrocampo, perché lo Young Boys, che continuava ad attaccare sulle fasce, ovviamente non basta la copertura di Carlos Augusto e di Dumfries sulle due fasce, ci voleva il raddoppio, questi attaccavano in due sulla fascia, il problema è che frattesi da una parte, Mkhitaryan dall'altra, arrivavano sempre in netto ritardo, almeno mezz'ora dopo, cioè non è possibile che non vai comunque a raddoppiare la marcatura contro questi che entravano a destra e sinistra in raddoppio, in superiorità numerica, devi andare chiaramente a raddoppiare tutte le sovrapposizioni e frattesi arrivava sempre a ritardo dalla parte, dalla sua parte, Mkhitaryan dall'altra sempre in ritardo, secondo me si è subito anche tatticamente per quel fattore lì, le linee del centrocampo non c'erano totalmente con un Barella che anche da mediano il primo tempo ha fatto male, secondo tempo si è ripreso con due belle aperture, ma al primo tempo lasciamo perdere, Barella ha fatto male secondo me oggi, nel primo tempo, nel secondo tempo si è un po' ripreso, sa telecamera che non mette a fuoco non la posso vedere, ok, però poi nel secondo si è ripreso, nel primo tempo non si poteva vedere, secondo me ha giocato un po' troppo lezioso, ha perso tante palle, insomma male, frattesi ha iniziato bene poi non ha mai tenuto la posizione, infatti secondo me ripeto ancora abbiamo preso un po' di imbarcate anche perché veniva veramente a meno, non il filtro, proprio la sovrapposizione, cioè non siamo andati a coprire mai, cioè vedevi frattesi da una parte e Mkhitaryan dall'altra che non andavano mai a raddoppiare, hai preso imbucate per questo motivo qua, poi Dumfries partita monumentale, migliore in campo, clamoroso, ha tenuto in piedi la partita, Dumfries nonostante si sia procurato il rigore, abbia recuperato una marea di pallò, nel primo tempo era Dumfries versus Young Boys, nel primo tempo l'Inter era Denzel Dumfries, ha giocato soltanto lui, dovete stare zitti tutti e portare rispetto al migliore esterno destro che ha l'Inter, ha in questo momento, dovete portare rispetto ad Enzel Washington, Dumfries, Justus Morrison, dovete chiedere scuse e portare rispetto perché oggi ha fatto una partita incredibile, ha salvato qualsiasi cosa, diagonali ottime, ottimi recuperi dietro, ha fatto tutto lui, saliva, azioni personali, in forma smagliante sulla falsariga della grandissima prestazione di Roma, grandissimo Denzel Dumfries. Abbiamo sofferto qualche volta i dam da quella parte lì che doveva essere buttato fuori per la trattenuta Dumfries, qualche colpo di testa loro, ma la vera occasione più nitida della partita nel primo tempo c'è l'Inter con Bisse che recupera una palla bellissima di testa, volante, arriva Carlos Augusto che serve, Tareni che mette una palla di tacco clamorosa, monumentale, di gran classe che solo lui detiene e la mette per Bissec, scusatemi, in area, che la tira addosso al portiere e si mangia un gol clamoroso, l'unica occasione che ha avuto l'Inter dall'altra parte della metà campo avversaria. Del resto è un Inter restia, stantia, che ha sofferto, uno Young Boys che era galvanizzato dal cambio allenatore, una squadra che cambia l'allenatore, 90 su 100 fa risultato. Quindi va bene che sono più scarsi, va bene che tutto quello che vuoi, ma è sempre una squadra che ha cambiato allenatore, non me ne fotte un cazzo se sono decimi o penultimi nel campionato svizzero. Una squadra che cambia allenatore è sempre rinvigorita. Quindi era una partita difficile, sapevamo che fosse una partita complicata per le assenze, per il turnover, per il campo difficile, per il sintetico vergognoso dove la palla schizzava 200 all'ora. Una partita difficile, sappiamo già che fosse veramente, veramente difficile, ma l'importante è stato portarla a casa. Certo, se ci fosse finalmente un po' di chiarezza su chi cazzo deve battere i rigori quando non c'è Cialanoglu, è ora di fare chiarezza, perché l'Inter ha due rigoristi, Cialanoglu e Taremi. Ora, mi dite perché deve batterlo Arnautovic? Lasciam perdere che ha fatto cagare Arnautovic stasera perché non è mai entrato nel vivo del gioco, certo, ci volevano anche i superpoteri per entrare nel gioco oggi perché è stata una brutta partita dell'Inter, però almeno Taremi nel suo piccolo è sceso, ha fatto un po' di ripiegamenti, veniva a costruire l'azione, in fase di costruzione scendeva sempre, mette quella bellissima palla per Bissek. Taremi ha giocato, Arnautovic proprio oggi malissimo, non pervenuto. Ma oltre a questo, cioè, hai due rigoristi, uno è Cialanoglu, l'altro è Taremi. Cioè, tu non puoi farci vivere 90 minuti di inferno perché deve battere, perché non so, cioè, non so neanche chi ha deciso, a me sembra veramente che si sia preso la palla lui e l'abbia messa sul dischetto, ma sono cose che non ti puoi permettere. Su questa cosa qua bisogna, secondo me, intervenire. E non mi interessa lo score, è vero, Arnautovic ne ha fatti di più di media, Taremi ne ha fatti di meno, ma è un fattore psicologico. Arnautovic con la testa, stasera non era in campo, non può battere un rigore così pesante, in una partita così delicata. Deve batterlo Taremi, cioè, è il secondo rigorista che hai, cioè, è come se tu hai in campo Cialanoglu, Zielinski, che è un altro rigorista, e Taremi, cazzo, non lo può battere un altro, deve batterlo Taremi, che è il secondo rigorista, non si può. Cioè, ingenuità clamorosa quella. Bisogna capire assolutamente al più presto la gerarchia dei rigoristi, perché oggi potevi pagare caro, veramente, e l'avresti quasi chiusa all'inizio del primo tempo, potevi pagare veramente caro. Quindi questa è stata un'ingenuità che secondo me potevi anche risparmiarti. Detto ciò, ripeto, arbitraggio veramente vergognoso, perché c'era un rosso, due rossi, e al 47esimo dovevamo giocare in 11 contro 9, perché dopo la trattenuta di Aydam andava sanzionato con il doppio giallo, non si può non dare un giallo del genere, e viene ammonito Dunfries perché ha iniziato a trattenerlo quando in realtà è quell'altro che gli tira la manata in faccia e non viene neanche sanzionato, nel secondo tempo ovviamente lo Young Boys aveva metà squadra ammonita, si poteva secondo me puntare di più nell'uno contro uno. Detto ciò, nel secondo tempo, Carlos Augusto purtroppo si stira, vedremo cosa sarà, secondo me sarà un'altra elongazione alla coscia sinistra, perché si toccava la coscia sinistra, campo di merda, campo di merda clamoroso, campo di merda clamoroso, la palla schizzava con l'acqua, speria, io non ho visto i tacchetti ma secondo me erano quelli di ferro, e sono ingenuità anche quelle, perché va bene che il campo è di merda, però dovevamo metterci comunque i tacchetti in plastica, su questi campi qua, a parte che ripeto ancora, a me sembra scandaloso che la UEFA però possa accettare dei campi del genere, perché a me è veramente suona strana sta cosa, però vabbè, lì secondo me anche del campo ne ha risentito l'infortunio di Carlos Augusto, però sono tanti infortuni sulla coscia sinistra, ovviamente non c'entra nulla nella preparazione di Inzaghi, non iniziamo a rompere il cazzo al mister, il mister comunque con i cambi molto bene, molto bene. Lo Young Boys nel secondo tempo, a parte il palo di Monteiro su una palla persa, è un'ingenuità di barella clamorosa, alla fine è l'Inter però che nel secondo tempo inizia a creare, inizia a produrre palle gol, apre la mole di gioco e soprattutto diciamo che inizia a prendere le misure allo Young Boys, accorcia le distanze proprio anche in termini di possesso territoriale di zona del campo, è l'Inter che riduce un attimo la distanza territoriale, continua a produrre nella fase offensiva e una bella imbucata per Dumfries, migliore in campo sugli scudi per Zielinski che la tira fuori di pochissimo dal secondo palo, Zielinski a me non è piaciuto come entrato, veramente entrato male, oltre al tiro saccagnato che fa, appena entrato poi si mangia un gol clamoroso a pochi minuti dalla fine che tira una, non lo so, una scoreggia praticamente fuori dallo stadio da due passi, lì non ti puoi, cioè non è da lui quell'errore lì eh, adesso non è che voglio fare il criticone, ci mancherebbe altro, io sono contento, abbiamo vinto, oggi sono contento, oggi non colpevo l'izzo a nessuno, è normale, era una partita difficile, non tutti, anzi quasi nessuno ha giocato al suo livello, quindi non sto criticando nessuno, però Zielinski ecco, non ti aspetti da lui quelle conclusioni lì, cioè da lì Zielinski spacca la porta 9 su 10, ecco non mi aspetto un tiro del genere da lui, però a me, secondo me è entrato male Zielinski, non mi è piaciuto, poi su una ripartenza Lautaro che poi si fa perdonare con quel bellissimo tacco e poi dopo che ha provato un tiro in porta da solo al volo, ha veramente entrato, ha dato tanto carattere alla squadra, davvero capitano, davvero leader, però lì in una ripartenza l'unico errore che ha fatto è stato non servire Dumfries da solo sulla sinistra, invece la dà Di Marcos in Cespica, poi Zielinski perde il pallone, lì c'era Dumfries libero da solo davanti alla porta, clamoroso non averlo servito subito, non averlo visto subito, ma comunque partita importante del Toro che ha dato veramente carattere, veramente grande ingresso del capitano e poi veramente De Vrij clamoroso, grandissima partita di De Vrij, sempre attento nelle uscite, partita sontuosa dell'olandese e poi arriva il gol del Tikus che ci fa veramente godere e ci fa andare a sbancare allo stadio di Berna in un campo vergognoso, con un arbitraggio anch'esso vergognoso, ma l'importante era portare a casa una partita facendo turnover, vincendo anche non meritandosi, ma anche se poi alla fine è vero, primo tempo lo Young Boys fa la partita, però l'occasione vera l'abbiamo noi, secondo tempo l'Inter parte subito forte e si prende il rigore, l'Inter nel secondo tempo crea, Di Marco e Bastoni entrano benissimo, Bastoni fa un dribbling fantastico, anche in fase di costruzione è importante l'apporto che ha dato, Di Marco subito al primo pallone è toccato però a tirare in porta, Di Marco e Bastoni entrano molto bene, Lautaro entra molto bene, Zielinski unico forse che è entrato magari non al top, del resto mi dispiace per Carlos Augusto, ma ripeto, la vittoria che serviva, è filato tutto liscio, minimo sforzo massima resa, abbiamo sofferto ma l'abbiamo portato a casa nel migliore dei modi, con chi? Con Marcus, Tikus, Crack, Turam, il numero 9 più forte della Serie A, che non tocca neanche una palla col piede, soltanto di ginocchio e la butta dentro, godo come un porco, bellissima palla di Di Marco, è una grandissima giocata di tacco del capitano, che porta poi all'assist di Federico Di Marco, e niente insomma, adesso chiamateci Ibraimovic che sta parlando ancora con Condola, non capisce quello che dice, visto che ieri l'intervista vergognosa, un dirigente che non sa neanche parlare in italiano, come cazzo si fa? E questi si permettono di parlare dell'Inter, figa, allucinante, allucinante, sono messi in mare, con l'Eau che non esulta neanche al gol dei compagni, un Caramò con la maglia rossonera il più sopravvalutato dagli ultimi vent'anni di calcio, e niente ragazzi, quindi direi che abbiamo dato tutto, vediamo se ci siamo dimenticati qualcosa, nulla di più, ma un grandissimo Denzel Dunfries, un grandissimo De Vrij, e insomma veramente complimenti alla squadra perché si è riusciti comunque a portare a casa una vittoria molto molto difficile per il rotto della cuffia, con una squadra che sapevi assolutamente che avrebbe dato il 100%, ci vediamo domani per le pagelle, grandissimo mister Inzaghi per i cambi, amala sempre, sempre forza Inter, ciao ragazzi, andiamo, andiamo!